Vie di Seta a Pesaresi, filande a Pesaro fra XIX e XX secolo. Questo è il titolo della mostra che si inaugurerà sabato 28 settembre a Pesaro presso l'Archivio di Stato, un'occasione per riscoprire la storia di Pesaro nel segno del filato. La mostra si inaugura in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, che sono un appuntamento ormai consolidato a livello europeo. Ogni anno, a fine settembre, c'è un weekend dedicato all'apertura straordinaria di luoghi della cultura. L'Archivio di Stato anche quest'anno aderisce con l'inaugurazione di una mostra dedicata alle vie di Seta a Pesaresi, che si abbina all'argomento generale scelto dal Consiglio d'Europa, che è Route, Networks and Connections, che è stato declinato dal MIC, Ministero della Cultura in Italia, come patrimonio in cammino. Ci dedichiamo quindi a un approfondimento sulle vie della Seta a Pesaro, grazie a una mostra organizzata appunto dall'Archivio di Stato e curata da Cristina Ravara Montebelli e dalla direttrice, quindi da me e da Sara Cambrini. Ci tengo a sottolineare che nella mostra è protagonista anche il Liceo Artistico Mengaroni, che presta molti oggetti che vengono dal Museo Tame e insieme a molti altri collezionisti privati. Ma ci tengo a sottolineare il ruolo del Liceo Artistico Mengaroni perché in occasione dell'apertura faremo una visita guidata, grazie a Mary Paolucci, al Museo Tame. e perché durante l'esposizione saranno organizzati anche eventi in concomitanza, cioè legati proprio ad approfondimenti anche laboratoriali. Inoltre la mostra si avvale della documentazione iconografica dell'Archivio Gabriele Stroppanobili. La mostra è visitabile da sabato 28 settembre al 28 ottobre, negli orari di apertura dell'Archivio di Stato, che sono piuttosto ampi, dalle 8 e mezza di mattina alle 19 tutti i giorni, il sabato mattina fino alle 13 e in più organizzeremo aperture straordinarie. Già vi dico che il 13 ottobre avremo un'apertura pomeridiana e serale della mostra con visite guidate. Si potranno vedere i documenti dell'Archivio principalmente, ma anche degli oggetti legati appunto alle filande e degli abiti, dei tessuti, dei fular, dei ventagli antichi, che sono stati prestati da vari prestatori istituzionali o anche da collezionisti, tutti inerenti appunto alla seta, al filato realizzato dalle filande di seta, non necessariamente quelle antiche pesaresi, perché purtroppo non ci sono più oggi, ma è una storia che inizia all'inizio dell'Ottocento e che si protrae fino all'ultima filanda, che è dell'epoca della guerra e che purtroppo è stata distrutta con la guerra. La ricerca appunto è stata la base della mostra, che però si è evoluta grazie alle collaborazioni, in particolare del liceo artistico e dei vari collezionisti privati, che appunto hanno dato ulteriori spunti per l'allestimento e quindi anche per degli approfondimenti e c'è stato appunto anche un apporto importante da parte del progetto Aracne, perché questa mostra si inserisce in questo progetto internazionale di rilancio e di valorizzazione appunto di tutto ciò che è l'allevamento del bacco da seta e anche la storia della seta in Italia.